avete della zucca a casa mezzo chilo di macinato misto io l'ho fatto misto pollo e manzo mezza cipolla fatta a pezzettini la paprika l'aglio pepe sale ok e poi intanto stavo piastrando la zucca a fette ne ho lasciate alcune grandi a noce moscata anche è una spezia che si usa poco invece molto buona e non solo nella bechamel il prezzemolo dicevo stavo piastrando la zucca e ho lasciato delle fette grandi da mettere alla fine del nostro timballo sì perché un timballo sopra perché nella base della della teglia da forno possiamo anche metterla che sono fette più piccole non è un problema quindi in padella mettiamo il composto che abbiamo realizzato e lo facciamo cuocere un po io ho messo anche mezzo bicchiere di vino voi fate come credete che poi questo è un cucchiaio grande di quelli grandi grandi ecco perché ho detto mezzo bicchiere e quindi come vedete nella base della tele ho messo qualche spruzzo d'olio e la zucca che avevo messo sulla piastra così che anche la zucca è un pochino cotta perché sennò lascia parecchia acqua quando la metti nel forno e poi come al solito metto le mie spezie anche sopra la zucca quindi il sale e l'aglio ho preso un'altra mezza cipolla e gliel'ho messa sopra la zucca e poi il macinato che avevo passato in padella ho preparato una bechamel molto semplice e ho coperto appunto la trita con la bechamel così che rimane anche più morbida la carne perché perché ho messo anche quella di pollo se no rimarrebbe un po' stoppacciosa anche per questo io cerco di mischiare le carni e poi sopra come vedete ho messo le fette quelle grandi della zucca che ho sempre piastrata io ho preso la zucca violino ma voi potete usare la zucca che volete se non avete la zucca potete usare anche le zucchine fatte nello stesso modo poi ho grattugiato sopra del parmigiano questo è quello che prima di metterlo nel forno è così ho acceso il forno l'ho lasciato scaldare a 200 gradi circa 20 25 minuti ve ne accorgete perché incomincia a fare la crosticina sopra la zucca e quindi significa che ci siamo e questo è il risultato a chi piace può anche mettere la mozzarella e io ho un po di intolleranza e quindi evito di di usare troppa mozzarella la uso sulla pizza e questo è il risultato e vi assicuro che è buono perché è buono e poi è qualcosa di di diverso da proporre per una cena veloce non sembra ma è un piatto molto veloce da da realizzare lo sentite il profumo peccato